Sindaco, le risulta che la dottoressa Mattucci si sia dimessa? No, non mi risulta al momento. Il sindaco di Giulianova, Ivan Costantini, chiede le scuse della dottoressa Mattucci, soprattutto ai sindaci e alle persone della provincia di Teramo e ai malati. Lei cosa risponde? D'accordo? Io sulla nota della dottoressa Mattucci mi sono già espresso, quindi assolutamente d'accordo sulle scuse rispetto ad una comunicazione che di fatto è stata una mancanza di rispetto nei confronti dei sindaci, ma non tanto delle persone che incarnano il ruolo, ma dell'istituzione e delle comunità che sono rappresentate, del personale, soprattutto del personale. C'è una mancanza di rispetto nei confronti del personale medico, infermieristico e sanitario, soprattutto che è sul fronte e sappiamo come stanno sul fronte. Un'azione che di fatto è stata finalizzata a scaricare le responsabilità su chi è quotidianamente sul campo di battaglia in condizioni di estrema difficoltà, senza protocolli sanitari che la direzione sanitaria doveva stabilire, senza garanzie ai dispositivi, con dei tamponi che sono stati fatti tardivamente a rilento e con una situazione esplosiva all'interno dei presidi ospedalieri che di fatto è diventato il problema Covid nella provincia di Teramo. Questa è la fotografia della situazione e questa azione più grave, la più grave di tutte, perché la scusa forse deve essere rivolta soprattutto al personale e ai pazienti, dimostra appunto il fatto che non c'è una corrispondenza tra il ruolo e la gravità della situazione emergenziale che stiamo vivendo. Lei solitamente è sempre molto diplomatico, lo è stato in questa prima parte del suo mandato, però questa volta, forse per la prima volta, ha calcato la mano perché non aveva mai chiesto le dimissioni di qualcuno e chiedere le dimissioni della Mattucci è stato un gesto molto forte da parte sua. Abbiamo chiesto di valutare appunto questo passo di lato, ma perché la fotografia della situazione è quella che è, parliamo del diritto alla salute dei cittadini e soprattutto al freddo. L'emergenza è ancora in una fase, non dico iniziale, però siamo nel pieno, quindi c'è ancora molto cammino da fare nell'emergenza, è necessario farlo con figure che siano, diciamo così, adeguate ad affrontare situazioni di straordinarietà che questo tempo ci impone.